No! Ho un problema sono troppe persone non so come devo fare calmi allora calma calma respira Ti do un bel tattico con 0 colpi Vabbè contentati Vieni qua fuori E' bianco No 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 andiamo vieni qua Qua c'ho tatti qua c'ho tatti Ho avuto 4 colpi però Sì sì ma non voglio affidare Abbiamo avuto HP in crocia Vabbè facciamo le stesse cose Ho fatto il reboot Ah No 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 non andare lì Vieni qui dentro Ah l'ho visto che hanno live Buonissimo Mi ho fatto 28 colpa Anche Acasale No, guarda, senta farmi il suo shieldone No, guarda, senta farmi il suo He, lol No, guarda, senta farmi il suo Se vieni con me ci facciamo subito il camion Vieni Adesso qua Adesso ci sta splash Dove devo guardare in safe Su me che se lo puoi portare qui Dove devo andarcela Ma serio? E non hai armi tu? Sì, ce l'ho il pomo Sì, ma... C'è un problema Non abbiamo vita Dobbiamo farci questi così grossi Vieni qua Hai band Vieni, vieni, vieni Sì, ci sono le splash qua Vieni qua Poi ci sta un'altra splash Vieni da me No, no, qui, vieni la mola Vieni da me 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 Non ci servono Non ci servono Sono qui anche al mola, vedi? Sono wet È giusta me Vieni da sotto? Vieni da sotto Eccolo qua Anche lui Scarra, se vuoi Quanto pare a tutti quanti Stacca... No, più in avanti è la mia Te lo butto la scarra Guarda Te lo butto qui Guardate, cade giù Guardate lì Hittato Puscio questi qua Che lo è taglia Non ci servono È buonito Eh no, io ho beccato quello che uscì Hai beccato un altro team allora Chi sei entrato? Era lui quello che avevo Che avevo Mi sei entrato nella casa E mi sei trovato un Iconic Che mi ha distrutto Ah sì Era un altro team È arrivato dopo Oh no, io ho beccato un altro team 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 Sì, sì. avevo fatto qualcosa ragazzi tutti contro di me cioè che devo fa a 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 basta a 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 easy ragazzi spammato un po' di gg 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 mato uuuu po ragazzi con 12 hp sono uscito da una situazione dove ho wastato duemila